Maura Saturno è una giovane cilentana, ma è soprattutto la mamma del piccolo Francesco, un bimbo di tre anni affetto da una rara malattia, l'asma di tipo 1, la forma più grave. L'atrofia muscolare spinale è una malattia caratterizzata da degenerazione dei motoneuroni delle corna anteriori del midollo spinale, cui consegue atrofia e debolezza dei muscoli del tronco e degli arti. A salvargli la vita potrebbe essere solamente un farmaco, ma la terapia, conosciuta con il nome di Zolgesma, è al momento accessibile in Italia per i bambini con l'asma 1 fino a sei mesi e ad oggi sono solo tre i bambini che hanno potuto riceverla, tra cui Sofia, curata all'ospedale Santo Bono di Napoli. L'Associazione dei pazienti famiglie SMA chiede all'agenzia regolatoria di estenderne l'accesso perché il costo per ogni singolo trattamento che corregge il problema genetico, determinando la completa regressione della malattia, è di 1,9 milioni di euro. Attraverso un post su Facebook la mamma del piccolo Francesco lancia un appello. Ciao, sono Francesco, ho tre anni e sono affetto da una malattia rara, l'asma di tipo 1, la forma più grave. In Europa e nella maggior parte dell'estero c'è possibilità di salvarmi la vita con un farmaco chiamato Zolgensma. Qui in Italia per assumerla, qui in Italia per assurda burocrazia e per interessi personali, mi vietano di poter avere un futuro migliore e dignitoso non approvando questo farmaco. Faccio un appello a tutti i miei conoscenti nel condividere la mia storia affinché chi di dovere approvi quanto prima il farmaco. Ho diritto alla vita. Dalle parole di Maura, anche altre mamme che lottano per i propri figli hanno postato una foto dei loro bambini con la stessa scritta. Conosciamo tutti anche la storia di Melissa, la bimba di Bari, di 10 mesi, affetta da sma di tipo 1 e per curarla i genitori hanno dato vita ad una gara di solidarietà a cui stanno rispondendo i personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e tutta Italia. I suoi genitori hanno lanciato una raccolta fondi che in pochi giorni ha raggiunto tantissime adesioni, aprendo anche la pagina Un Futuro per Melissa. Sono nove in Italia i bambini affetti da questa malattia e che vivono su un filo in attesa di una firma che non viene approvata. Il tempo è prezioso e per questi bambini è una corsa veloce contro un tempo e un destino che non dipende da loro. Pare però che una speranza per Melissa e per tutti i bambini che sono affetti da questa rara malattia sia arrivata. Il ministro della salute Roberto Speranza ha chiesto all'AIFA di prendere in considerazione il caso di Melissa per la somministrazione del farmaco. Se l'AIFA si pronuncerà con parere favorevole, la vita di Melissa e di altri bambini che soffrono di sma potrà avere una possibilità di vedere migliorata la propria condizione di salute.